L'onorevole Buonanno è rimasto vittima di un tragico incidente stradale ed è morto direttamente sul luogo stesso dell'incidente. È stato per molti anni sindaco di Borgosesia. Sua moglie è sopravvissuta all'incidente e l'onorevole Buonanno lascia famiglia e figli. Molti sono stati estremamente colpiti da questa tragedia e in queste ore difficili facciamo i migliori auguri di pronta ripresa a sua moglie e facciamo gli auguri a tutta la famiglia affinché superino questo difficile momento e chiedo di alzarsi tutti per un minuto di silenzio. Grazie 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 Grazie